Ciao a tutti, una comunicazione interna. Oggi verso le 15 sarò in diretta perché mi viene a trovare Giorgino, per chi non lo conosce è il norcino del canale, del mio canale, e viene a trovarmi in occasione dobbiamo tagliare una forma di parmigiano. Se avete voglia intorno alle 15 vi aspetto. Lui è lì per rispondere alle vostre domande, se avete bisogno di chiedergli qualcosa è il momento buono. Canale Rosso e Canale Viola. Ciao a tutti!